Grande attenzione nell'Aretino per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà a Civitella il 25 di aprile in occasione degli 80 anni dalle stragi nazi fasciste. Da una parte la gioia di accogliere il Capo dello Stato, dall'altra una grandissima attenzione per quello che sta accadendo a livello internazionale. Sì, sicuramente per il territorio è una grandissima opportunità e un grande onore avere il Presidente della Repubblica naturalmente in un contesto che conosciamo tutti particolarmente delicato a livello mondiale quindi è proprio di questi giorni l'attacco che abbiamo visto dei droni iraniani ad Israele è chiaro che il livello di attenzione è massimo. Su questo abbiamo fatto già dei comitati per l'ordine della sicurezza pubblica altri ce ne saranno nei prossimi giorni quindi al di là di quelle che sono le misure di attenzione già particolarmente elevati in ragione del contesto geopolitico ci saranno chiaramente delle misure dedicate alla visita del Presidente. Possiamo dire che Civitella sarà davvero un paese blindato che cosa si devono aspettare i cittadini nelle ore anche precedenti a questa visita? Sì, naturalmente il protocollo di sicurezza richiede che il paese sia effettivamente blindato per cui ci sarà un'interdizione al traffico da un certo momento in poi quindi dalle prime ore della mattina fino alla conclusione della visita del Presidente naturalmente nei giorni precedenti e nei giorni dell'evento saranno effettuati tutti i controlli richiesti dal protocollo di visita del Presidente quindi che saranno controlli di bonifica, controlli del territorio e tutto per rendere la visita come deve essere un momento di gioia e senza alcuna preoccupazione. Tutto si svolgerà in piazza Alcide Lazzere intitolata al parroco che il 29 giugno 1944, giorno dell'eccidio di Civitella offrì la sua vita in cambio di quella dei suoi parrocchiani ma non fu ascoltato. Fu lui la prima vittima delle 244 uccise dai soldati della divisione Hermann Göring fra Civitella, Cornia e San Pancrazio di Bucine. Ha espresso ecco una particolarità il Presidente appunto di conoscere storie particolari ci sono ancora dei superstiti di questa strage? Si incontrerà i superstiti e soprattutto il desiderio del Presidente è quello di incontrare i ragazzi, i bambini quindi sarà una visita proprio all'insegna della conoscenza dei nostri ragazzi che saranno presenti in diversi momenti e parteciperanno al coro quindi si faranno apprezzare per le loro doti canore e musicali ma saranno anche presenti all'interno della trenzostruttura quindi tra il pubblico.